L'Italia sta davvero cominciando a cambiare. Il 2014 sarà l'anno decisivo per scoprirlo. E noi, di 8 e mezzo, ve lo racconteremo come sempre, tutte le sere, a partire dal 2 gennaio. Lilly Gruber torna con 8 e mezzo e i suoi ospiti. Giovedì 2 gennaio, alle 20 e 30, sulla 7.